Principalmente per i suoi sbocchi professionali. Il CLEA è rivolto anzitutto a giovani che desiderano sviluppare la propria carriera nell'area finanza, amministrazione e controllo di un'impresa. Persone che hanno a cuore la sostenibilità delle nostre imprese, quelle attuali e quelle che verranno, curandone i fondamentali economico-finanziari. In secondo luogo, il corso di laurea forma persone che vogliono svolgere come professione il revisore dei conti all'interno di società di revisione e il corso di laurea vanta importante collaborazione con le principali aziende del settore, come Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers. In terzo luogo, il CLEA è per chi ambisce a diventare un dottore commercialista o lavorare come esperto contabile in uno studio professionale. Anche in questo caso abbiamo collaborazioni con l'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Bologna per i tirocini e con l'Unione dei giovani dottori commercialisti su temi legati alle start-up e alle imprese nuove. Le principali aree di apprendimento sono quattro. La prima è l'area aziendale, dove si studiano le principali funzioni di un'impresa, come l'organizzazione, il marketing, la strategia. La seconda è l'area economica, dove appunto l'obiettivo è quello di portare lo studente a padroneggiare le competenze economico-finanziarie di un'azienda. La terza è giuridica, in quanto gli aspetti economici hanno una stretta connessione con quelli normativi, da cui non si può prescindere e che è opportuno padroneggiare. L'ultima è quella matematico, statistico e informatica, affrontando materie che completano un percorso tanto ricco quanto interdisciplinare. Anzi, l'ulteriore valore di questo corso di laurea, unitamente agli sbocchi professionali precedentemente accennati, è proprio l'interdisciplinarietà, la complementarietà e la completezza dei temi affrontati. Diversi motivi. Il primo è legato all'Ateneo. L'Università di Bologna è l'unica che non è stata fondata da un politico, da un notaio, da professori o avvocati, bensì è stata fondata intorno all'anno 1000, la prima università occidentale, da studenti. By students and for students. Ricordatelo. Respirerete questa storia e questo DNA nelle aule e nei corridoi delle nostre facoltà. Il secondo è collegato ai docenti. Abbiamo professori tra i più avanzati nell'ambito della ricerca scientifica e tra i più competenti nell'attività professionale. Il terzo è per la soddisfazione del CLEA, oltre il 90%, espresso dagli studenti che vi hanno preceduto e prima di voi hanno scelto con successo questo corso di laurea. Sono sempre più le persone che lo scelgono e la mia e la nostra soddisfazione è vedere che sempre più molti giovani si laureano in corso. Cinque anni fa eravamo attorno al 60%, oggi siamo al 75% di laureati in corso. Il nostro obiettivo è sviluppare in te competenze che ti consentano di continuare la laurea magistrale con stima o entrare nel mercato del lavoro dalla porta principale.